La fiera di Sant'Andrea è una tipica fiera di transizione dal periodo estivo-autunnale al periodo invernale e affonda le sue radici nella tradizione agricola quando alla fine della stagione tardo-autunnale, tipicamente a fine novembre, si tiravano le somme e si chiudevano i conti dell'annata, tant'è vero che tipicamente le fiere di fine autunno sono incentrate proprio sullo, chiamiamola rendicontazione e chiusura della stagione agricola. Tipicamente coincide con la festa del ringraziamento che si fa il 30 novembre e viene scelta l'ultima domenica di novembre come festa per la fiera di Sant'Andrea. E' una delle fiere più antiche nella nostra zona perché siamo la 622esima edizione quest'anno, quindi qualcosa di veramente particolare, una fiera che ha saputo attraversare il tempo. Si è trasformata nel tempo e ovviamente ha risentito della modernizzazione del mondo agricolo, non è più una classica fiera agricola dove ci si scambiava l'animale da lavoro piuttosto che alcuni beni ed è diventata una fiera di pubblicità del territorio, di pubblicità dei prodotti e dei valori dell'enogastronomia locale. Tipico piatto di questa fiera sono le trippe che di nuovo sono legate alla stagione perché alla fine della stagione della macellazione c'era disponibile le trippe fresche. Un piatto povero perché è un piatto che si può fare solo una certa stagione con un costo relativamente basso e un piatto quindi che potrebbe essere diffuso a tutta la popolazione, a tutti gli agricoltori e non agricoltori che si ricavano alla fiera. E abbiamo mantenuto questa tradizione delle trippe insieme ovviamente a tutta una serie di altri piatti caratteristici dell'autunno fra cui le cupette dolci e tradizionali tipici del Mont Regalese. Questa è la fiera di Sant'Andrea trasformata appunto nel tempo in fiera per le famiglie e per coloro che vogliono conoscere le prelibatezze del nostro territorio in chiave autunnale, tardo-autunnale fino poi a cambiare e andare alla transizione invernale della stagione.